Salve a tutti ragazzi del Pepero Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario Galaxy 2 Si prosegue immediatamente e si fa la penultima galassia che ci manca, la galassia dei boss Anche questa insomma non deve essere tanto simpatica sinceramente Perché se mi devi far uccidere 70 boss per farmi prendere una stella insomma non so se proprio ne vale la pena Però chiaramente lo dobbiamo fare Stiamo attenti qui al video iniziale, magari ci saranno dei suggerimenti Allora una stella verde è sicuramente nella galassia del Talpone L'altra non lo sappiamo, dobbiamo cercarla Io spero che sia quasi all'inizio, non dico all'inizio ma spero che almeno sia nel mondo di Re Caliente Spero di sì raga perché qui non c'è nulla Quindi insomma sicuramente non è da Dino Piragna Però speriamo che sia da Re Caliente se no veramente E qui Dino Piragna ci abbandona probabilmente Facciamo così, esatto, addio Dino Piragna Sì sì sì, schippiamo tutto chiaramente, non ci frega nulla Qui mi raccomando andate anche a vedere qua giù eh Qui schippiamo anche l'intro di Re Caliente E andiamo a vedere qua giù ma qua giù non c'era nulla raga C'era già la cometa, la medaglia cometa Quindi non c'è per davvero la stella qui ovviamente Mica sono scemi Dai dai sparami tutto E andiamo a vedere qua giù non c'è Perfetto, anche Re Caliente l'abbiamo completato Ok allora ragazzi niente la prendiamo da qui semplicemente Qui nemmeno lo stiamo a provocare il nostro caro amico Caro amico una sega, un boss bruttissimo Prendiamo la stella Sì sì io ho l'impressione comunque che quell'altra Sia abbastanza nascosta tipo nel pianeta di Dino Piragna infuocato Sono quasi sicuro di questo però non lo so Non sono sicuro al 100% quindi chissà 237 stella, galassia dei boss, stella verde 1 Proseguiamo, proseguiamo E facciamo la stella verde numero 2 Io penso abbiamo fatto il record di Dino Piragna veramente Perché lo abbiamo battuto in penso meno di 5 secondi Una roba del genere Che faccio lo prendo il fungo energia? Ma in realtà quasi sì Però vabbè dai non ce ne frega nulla Cominciamo a batterlo subito Uh ste palline di gelo Oh Ok, perfetto. Anche il talpone l'abbiamo eliminato. E allora andiamo avanti. Eccola, eccola lì ragazzi. Sì, ci prendiamo assolutamente il checkpoint. Qui saltiamo, tanto non ce ne frega assolutamente nulla di lui perché bisogna prendere la stella che è qui. Perfetto, ci mancava poco che non la prendevamo. Comunque raga, era lì vicino a questo mostro. Non mi ricordo nemmeno come si chiama, buldergeist, qualcosa del genere. Ok, mi preoccupava tanto, invece non era niente di che, devo dire. La galassia dei boss l'abbiamo completata con la stella verde 2. 238esima stella. Ok, ok, perfetto. Facciamo allora l'ultima galassia che ci manca ed è la galassia blocchi blu-rossi e prendiamo la first star. E con questa galassia, raga, completiamo la nostra raccolta infinita alle stelle verdi. Raga, ci ho messo veramente tantissimo per raccogliere. Una settimana di registrazione in totale, quasi, perché sono tante stelle, tantissime stelle. Poi devi rifare il livello tutte le volte, insomma, diventa anche snervante a volte. Intanto ne ho già vista una, comunque. È lì. Ho l'impressione che non sarà facilissimo prendere queste, appunto, queste stelle. No, questa in realtà è abbastanza facile. Sinceramente, basta buttarsi qui. Ah, volevo fare la pirouetta prima, non me l'ha fatta fare. Fanculo, fanculo! Qui tanto ci arriviamo molto facilmente. E qui, ragazzi, tac. Presa la prima. La prima era facile. Stella verde è una galassia a blocchi più rossi, perfetto. E andiamo a prendere la 2. Qui entriamo dentro il tubo direttamente. Quanto non c'è da fare molto altro, sinceramente. Quindi qui ci sono le ombrine anche che ci seguono, attenzione. E niente. Ah, ci sono le ombrine che ci seguono, perché questo... Questa è la stella verde, ma relativa alla cometa burlona. Ma è una cosa che non si è mai vista questa, però, sinceramente. Cioè, non si è mai vista una stella verde presa nel livello della moneta burlona per ora. Finora. Non si era mai visto. Questa è la prima volta, se non mi sbaglio, che succede una cosa simile. Quindi questo, insomma, segna anche, segnala l'incrementata difficoltà, Dio Cristo, del livello. Sì, ciao. Bella morte questa, ragazzi. Appena sponato, subito morto a chiocco proprio. Perfetto. No, sti cosi, raga, li odio, li odio, queste talperotanti e licuose di merda. Dai, via da qui, cloni di merda, raga, non le sopporto, veramente. Attenzione qui. Occhio qua. Dai, dai, torniamo al checkpoint. Io in realtà non sto nemmeno calcolando la posizione della stella. Però, sono sicuro che non è qui vicino. No, no. Allora... Ok, qui superiamo tutto con un bella, con una bella serie di salti lungo. E qui sento un rumore Yes Ma dove minchia è? Oddio Perfetto Presa presa dai Non era difficile Alla fine bisognava rifare il livello della cometa burlona Stavolta però con l'obiettivo di prendere la super stella Oh raga Ce l'abbiamo fatta Conclusa Completata la raccolta 240esima infatti stelle Infatti mi sembrava ce ne fossero 241 o 242 di stelle In questa galassia Sentiamo un po' cosa succede adesso Eccola qui Una volta che avete completato la raccolta delle stelle Ci sarà la galassia finale come vedete Adesso andiamo a vedere solo e solamente come si chiama Perché la andiamo a fare nel prossimo episodio Sono È la galassia leggendaria come vedete C'è anche il segnalino ragazzi della cometa della moneta anzi della medaglia cometa Quindi vuol dire che anche qui ragazzi ci sarà la cometa burlona E vedrete ne vedremo ragazzi nelle belle faremo entrambi i livelli quello normale e quello della cometa burlona Nel prossimo episodio che sarà probabilmente l'ultimo episodio di super mario galaxy 2 Galassia leggendaria siamo pronti? Io insomma non lo so ragazzi vediamo un secondo se è difficile o facile So sicuramente che non è semplice Non è semplice non sarà semplice Perfetto ragazzi allora io vi saluto Ci vediamo nel prossimo episodio che probabilmente sarà l'ultimo episodio di super mario galaxy 2 Se vi è piaciuto questo però ovviamente iscrivetevi Mettete un bellissimo like e commentate se volete supportare il mio canale Da Pepero Zorbetto è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti